La festa è appena cominciata, cantava Sergio Andrigo in Canzone per te. La festa è appena cominciata per l'Ella Crea che ammazza il campionato di promozione e vuole un'eccellenza con quasi un mese di anticipo. Troppo forte per tutti la scuola di mister Augelli e il presidente De Vitto con Gennaro Casillo. Il gruppo di Canela, con una folta rappresentanza irpina, ricce e mustone su tutti, scrive un'altra pagina di storia, se è importante, nel calcio direttante irpino. Trista lo Sporting e per il Cina davanti ad uno stadio Mitola gremitissimo, in gol Caruso, Falconieri e Mascia. Il Baiano compie una mezza impresa in casa del Castelpoto, 2-2 il finale comunale con i Granata che vedono la salvezza grazie alle reti di Yassin e di Maresca. Il Lions-Monts, il mutuo Montemiletto stoppato al fine dal Saviano, 1-1, con i gol di Imparato per i Napoletani di Mister Di Martino e Antonio Pugliese per i Montemilettesi di Sgambati, che perdono una scienza importante per puntare al secondo posto. Saviano scossa anche per l'incidente dei cinque ragazzi nella nottata di sabato sera, che ha coinvolto due tesserati del club nello verde, Antonio e Giacomo Lamarca. Tutte le società del calcio direttante esprimono la loro vicinanza alla famiglia dei calciatori e dirigenti savianesi. Tornando al calcio giocato, inesimo capo per il Lions-Grutta, che a Romano cede per 3-1 all'FC Mariano, per Monaco, un giorno di ritorno disastroso. La Savignanese vince a Benevento in casa della Forza Ecolaggio, doppietta per Catarruzzolo e gol di Verrilli. Non basta i sanniti da Jesu. Grande cuore del carotenuto, del duo Montuori da Stefano. La squadra rossonera, il bello fatto, impatta per 2-2. Contro il San Vitaliano, doppietta di Bocchino per i mandamentali, che stanno onorando la stagione al meglio delle loro possibilità. Complimenti ai ragazzi del mandamento, che con onore e dignità stanno salvando la faccia del club di Ruzza. Grazie a tutti.